Con Ernesto Torchia e Francesco Corrado, stasera Tonno Callipo che è ritornata alla vittoria in Serie B contro messaggeri e volley Catania. Ernesto, che partita è stata? Intanto una bella vittoria. Sì, una bella vittoria, ci voleva dopo la sconfitta di Augusta. È stata una partita difficile abbastanza. Sapevamo che loro sono una squadra che punta a stare nelle posizioni alte del campionato e ovviamente sono venuti qui per cercare di fare risultato, così come è successo. Però noi forse abbiamo espresso un gioco migliore e per fortuna siamo riusciti a conquistare i tre punti davanti al nostro pubblico. Francesco, dopo il capo di Augusta, come diceva Ernesto, stasera una Tonno Callipo più concentrata, più determinata, più vogliosa. Insomma, è stato questo il segreto prima ancora poi di una crescita tecnica? Sì, come ha detto lui, non è mai facile ripartire in questa maniera, soprattutto dopo una sconfitta avvenuta in malo modo. Oggi abbiamo giocato veramente molto bene, soprattutto in alcune fasi, abbiamo fatto vedere che ad Augusta non eravamo noi, abbiamo fatto una partita pessima. Ci prendiamo i tre punti contro una squadra che punta alle zone alte della classifica, i play-off, siamo venuti così. Da lunedì cominciamo a pensare a Brola. Che campionato è questa Serie B e cosa significa per voi a 18-19 anni disputare questo campionato? Voi che vi allenate con la prima squadra in Superlega, voi che non giocate in Superlega ma respirate l'ambiente della Superlega. Che importanza date a questo campionato? È un campionato molto importante per fare esperienza, la società infatti ci permette di stare nel gruppo della 1 e comunque trovando poco spazio con questo campionato di Serie B possiamo contare delle partite in più nelle nostre gambe per dimostrare quello che facciamo durante la settimana con la Serie A mettendolo in pratica in queste partite. Francesco? Sì, il campionato è appunto per farci crescere. Molte volte abbiamo le problematiche per gli allenamenti perché ne discutiamo pochi con la Serie B però alla fine sono tre anni che giochiamo insieme quindi diciamo che il gruppo è già abbastanza amalgamato. Sì, è un campionato difficile dove c'è gente esperta, gente che ha disputato anche Serie Maggiori e per quanto riguarda l'esperienza della Superlega è un'esperienza importantissima che ci riempie di orgoglio. Grazie sia a Francesco Corrado che ad Ernesto Torchia. Noi non diciamo mai in bocca al luco ma in bocca al tonno per domani, gara importantissima contro Sora. Voi ci sarete a far parte del gruppo in panchina, allora in bocca al tonno. Crepi. Crepi il tonno. Vorimetto Torchia.